Gli annunzi, chiede di intervenire, prego. Grazie, Presidente. Questo emendamento si chiede di specificare che la partecipazione nel partito può avvenire anche attraverso la possibilità di confrontarsi e di essere informati utilizzando una piattaforma digitale del partito. Quindi io non mi sorprendo che un partito che non ha una cultura moderna come quello del Partito Democratico possa dare un parere negativo, ma che addirittura il Movimento 5 Stelle, che è nato in rete e è nato sulle basi della, almeno propagandando la democrazia diretta e partecipativa, si astenga su questo emendamento, non lo comprendo proprio. Grazie. Sì, grazie. Allora, nessun altro chiede di intervenire? La votazione è aperta. La votazione è aperta. Bene, tutti hanno votato. La votazione è chiusa. Favorevoli 13, contrario 267, la Camera respinge. Siamo al 2.7. Anche qui parere, invito a ritiro, parere contrario di Commissione e Governo, contrario 5 Stelle e favorevole sinistra italiana. Deputata Centemero, prego. Grazie, signora Presidente. Anche in questo caso il principio che si vuole affermare è il principio dell'equilibrio di genere e della parità di genere. In modo particolare, mi riferisco anche all'amendamento 2.6, su cui prima non sono intervenuta. All'interno di questo articolo non si chiede solo che il rispetto del principio e della parità di genere venga assicurato nella possibilità appunto di associarsi liberamente dei partiti, ma anche nella organizzazione e nel funzionamento dei partiti e specificamente nel 2.71 viene inserito, oltre a riferimento all'articolo 49, anche all'articolo 51 della Costituzione, che è quello nel quale proprio si afferma, è stato affermato anche grazie alla riforma che fu fatta appunto nel 2003, il principio di pari opportunità tra donne e uomini. Questi due emendamenti derivano da una risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio d'Europa che appunto mette in luce come ci debba essere il rispetto del principio di equilibrio e di parità tra donne e donne.